Salve a tutti, sono Gianfranco Marini, benvenuti a questa breve guida su DataGipMaker di Google. Ho fatto questa guida non tanto per fare un video tutorial, mostrerò come funziona la GipMaker, ma è veramente molto elementare, e quanto perché mi premeva insistere sull'importanza di sviluppare gli studenti e le studentesse, sin dalla più, come si suol dire, tenere età, la capacità di esaminare grafici, diagrammi e così via. Infatti DataGipMaker consente di realizzare GIF animate, diagrammi in forma di GIF animate. Leggere i grafici, leggere i diagrammi, in generale avrà a che fare con la complessità dei numeri e della rappresentazione che diamo dei vari settori della realtà tramite numeri graficamente espressi e una capacità trasversale fondamentale. Io insegno alla secondaria superiore, in un liceo, e spesso mi rendo conto del modo ingenuo e anche dell'incapacità che gli studenti hanno, e gli studenti hanno, di raffigurarsi, a partire da un grafico, da un diagramma, eccetera, a un determinato ambito di realtà. Grafici e diagrammi sono rappresentazioni grafiche di valori numerici, di qualsiasi valore numerico, possono rappresentare una determinata situazione, oppure un processo, un flusso di informazioni e così via. Saper realizzare grafici e saper leggere grafici è una competenza essenziale per tanti motivi. Per esempio, la capacità di organizzare i dati, in questo caso graficamente, richiede anche una operazione di categorizzazione dei dati stessi, e quindi pensiero astratto. Inoltre, noi sappiamo cosa sono i big data in cui viviamo immersi, sappiamo l'importanza, quindi, di elaborare i dati. Elaborare i dati, che cosa vuol dire prima di tutto? Vuol dire dare un significato ai numeri, e dare un significato ai numeri vuol dire concettualizzare, categorizzare e rappresentare, in questo caso graficamente. In quanto tali, grafici, diagrammi, eccetera, rientrano anche in quella che è la normale comunicazione, ormai, siamo sommersi da rappresentazioni grafiche di big data, e rientra quindi, in qualche modo, anche nella media education, o nello sviluppo di competenze digitali, in questo caso molto specifiche, ma, ripeto, trasversali. Vediamo adesso brevemente il link alla Data GIF Maker di Google, inserirò il link anche nella descrizione del video. Questo è Data GIF Maker, la procedura qual è? Creare, partendo da questi modelli, sono soltanto tre, una GIF animata, inserendo dei valori. I valori possono essere numerici qualsiasi, possono rappresentare una popolazione, la lunghezza di un fiume, all'altezza di una montagna, il PIL di un paese, o un problema di attualità, che sono il femminicidio, quindi i casi di femminicidio in diversi anni, e così via. È adatto a tutti gli studenti, dai più piccoli ai più grandi, proprio perché è estremamente semplice e dà, come dire, la base, le basi per capire come si creano, costruiscono i grafici, e quindi anche come si possono leggere e come tramite i grafici si possano ordinare i dati e anche interpretare i dati. Bene, come prima cosa sceglieremo uno di questi tre modelli, non so, io voglio inserire, scelgo questo modello, lo chiamo, ecco qui, questa è l'area di editing, lo chiamo per esempio i fiumi più lunghi del mondo. Quindi qui do il mio titolo e questa è l'anteprima, come vedete ho due colori e due soli valori, voglio i valori percentuali o voglio i valori invece in termini assoluti, in termini numerici. Dato che si tratta di lunghezza dei fiumi, voglio i valori in termini numerici, per esempio cominciamo Rio, Velle, Amazoni, e inseriamo il nome del primo termine, quello verde, e inseriamo il valore 6.900, all'incirca, 6.900. Poi inseriamo, che so, il Nilo, il valore facciamo 6.500, non mi ricordo, ma insomma. Ecco, come vedete viene riprodotta la lunghezza dei due fiumi, secondo queste curve. inseriamo un altro fiume, il Mississippi, Mississippi, Missouri, ho messo un S in meno, e tutta quella roba, facciamo che sia 5.800, e così vedete ho realizzato il mio grafico. Posso aggiungere fino a 4 termini, adesso aggiungiamo un altro fiume, il fiume azzurro, non mi ricordo assolutamente, 5.300, ma ecco, e non posso aggiungere altri termini, posso aggiungere fino a 4 valori. A questo punto che cosa devo fare? A questo punto ho terminato il mio grafico, e prima di salvare osservo l'anteprima. Come vedete è un'animazione molto carina, mi permette di visualizzare graficamente questi valori numerici. Bene, a questo punto non mi resterà che salvare, per salvare in alta qualità o in bassa qualità, io adesso salverò in alta qualità, ci vorrà un po' di tempo. Sono passati diversi minuti e ho finalmente a disposizione il risultato del mio lavoro. Posso ottenere il link, vedete se clicco qui ho il link della mia presentazione, posso utilizzare questo link per inserire la mia presentazione in un lavoro multimediale, in un sito, in un blog, eccetera. Oppure posso, adesso torno su DataGirMaker, vedete qui è il lavoro che ho appena fatto, oppure posso scaricarlo, scaricare il grafico, l'animazione, e otterrò questa immagine che salverò cliccando col destro, salva l'immagine con nome, mettiamola qui in immagini, lasciamo il nome, scaricata. In questo modo disporrò di questa animazione e potrò farne l'uso che voglio caricandola dal mio computer. Bene, spero che questo video vi possa tornare utile e spero soprattutto che sia chiara l'importanza della capacità di interpretare, leggere e creare grafici. Questo programma, come dicevo anche prima, essendo così semplice, è adatto agli studenti di tutta l'età. Vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.